buonasera allora c'è la maglia del real madrid dell'adidas tutta dorata guardate quanto è bella originale poi c'è quella del barcellona e avevo dimenticato di farvi vedere anche quella del milano cioè anche quella del milano io sono stato a barcellona con la coppa dei campioni ho visto il milan giocare ai tempi di cacà milano sono stato otto anni a milano un anno a cassano d'adda il paese di giacinto facchetti e poi andrò a madrid e lì chiudo la partita questi sono i tre giganti del calcio mondiale le multinazionali quelli che hanno vinto più di tutti mamma mia gianfranco lombardi guardate cos'è gianfranco lombardi una persona umile però di alto livello perché se vado anche a madrid vi lascio tutti dietro perché perché praticamente barcellona milan e real madrid sono quelli che hanno vinto più di tutti mi manca solo farmi un video con la coppa dei campioni al santiago bernabbeo e chiudo la partita prima o poi ci vado con l'aereo parto da bergamo vi saluto e vi ringrazio tutti buonasera a tutti belli e brutti e viva la musica e vi ringrazio tutti buonasera a 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 tutti buonasera